Si dà come dicevo a richiesta nei giorni scorsi, il collega Lino Cascioli del Messaggero ha chiesto di poter utilizzare il Telebim per quanto riguarda anche gli episodi del passato. Uno degli episodi richiesti è quello del famoso gol annullato a Turone. Abbiamo le immagini con Cottini, con Pantanetti, andiamo a rivedere quell'episodio del 10 maggio dell'81. Nell'85 la RAI aveva firmato un contratto con la Telesia che aveva creato un sistema di elaborazione elettronica che poteva essere applicata anche ai filmati in maniera tale da creare il senso di profondità. Telebim era una anticipazione di quel sistema che oggi viene tranquillamente usato e nessuno si scandalizza. Adesso cerchiamo di trasformare l'immagine dal videolettore al Telebim e trasformiamo il giocatore in sagoma per cercare di poter individuare la situazione. Ecco, da questa angolazione si vede che Prandelli tiene in gioco, o Pruzzo ovviamente perché era dietro e faceva il cross, e anche Turone. Quindi il Telebim a distanza di circa 4 anni attribuisce il gol a Turone, anche se ovviamente ora non serve a niente. Era una curiosità di revival, si chiude qui questa puntata di gol flash. Fra pochi istanti dopo la pubblicazione...